Dal bizzarro becco a cucchiaio a ogni straordinaria penna rosa, questo uccello è stato dipinto con immensa cura. L'intento di Audubon di classificare gli uccelli del Nord America e la sua attenta ricerca scientifica produssero lo splendido libro illustrato The Bird of America, corredato da 435 tavole. Di formazione neoclassica sul modello francese Jacques-Louis David Audubon mise la sua abilità pittorica al servizio della passione per l'ornitologia per dare un fine pratico alla propria formazione. Per la realizzazione del libro sugli uccelli del Nord America Audubon dovette cercare finanziamenti anche in Gran Bretagna. Una volta terminato il libro fu pubblicato in America Gran Bretagna e viene tuttora considerato un'autentica opera d'arte e un importante documento scientifico.